Ma perché bisognerebbe mettere l'accento su se stesso? Iniziamo con il dire che entrambe le forme sono corrette. Però, però, guardate tutto il video. Uno, perché è la forma consigliata da tutti i grammatici moderni. La usano tutti. E soprattutto è la forma consigliata da Argoat della lingua italiana, cioè Luca Seriani. Io mi fermerei qui. Domanda avanti e andiamo avanti. Due, è una regola scolastica e non si trova in nessuna grammatica. E l'ho cercata. Ma non c'è, non c'è, non c'è da nessuna parte. Ma poi perché dobbiamo introdurre inutili eccezioni? E perché il se quando è da solo ha l'accento e invece quando è in compagnia di stesso lo deve perdere? Se vergogna, boh! Terzo ed ultimo punto. Il plurale se stessi, almeno o in un primo momento, si potrebbe confondere con i congiuntivi passati. Ad esempio, mi chiedevo se stessi bene. Oppure se stessi con me sarebbe bello. V'ho convinto. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra forma preferita. e soprattutto condividete il video. Se no, che stiamo a fa' qua? Eh? A pettina e bambole! Chiaro, no?